Se rimaniamo in pagno per un guasto meccanico, è finita la benzina, la corda da traino è la nostra ultima spiaggia. Dobbiamo averla sempre dietro, però per utilizzarla non possiamo fare il nodo delle scarpe. Quindi andiamo a vedere come fare un nodo da traino. È facilissimo, insegnatemi proprio dal grande vigile del fuoco Giulio Filippone. Prendiamo le due estremità della corda, di qua facciamo un anello, passiamo dentro questa estremità, la prendiamo da sotto e la riportiamo di là. Una doppia corda, infilata dentro e tiriamo. Queste due estremità è fatto. La bellezza di questo nodo è che per sganciarlo è facilissimo, basta fare così ed è libero.